benvenuti sul canale viva il papa e il rinnovamento proseguiamo oggi con il quarto giorno della novena alla medaglia miracolosa un'occasione speciale per approfondire la nostra fiducia nella vergine maria madre di tutte le grazie in questo giorno affidiamo a lei i nostri cuori certi che la sua intercessione ci guiderà verso il signore poniamoci in raccoglimento per invocare insieme lo spirito santo affinché ci illumini e ci guidi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio donna morte santa donna gioia eterna amen con umiltà e speranza iniziamo il quarto giorno della novena alla medaglia miracolosa o vergine immacolata della medaglia miracolosa che mossa a pietà dalle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto di adoperi per stornare da noi i castighi di dio e impetrarci le sue grazie muoviti a pietà della presente nostra necessità consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono, ci hai portato la tua medaglia, affinché fosse difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Grazie per aver recitato con noi il quarto giorno della novena alla Medaglia Miracolosa. Che la Vergine Maria ci accompagni sempre con il suo amore e la sua protezione. Se questo momento di preghiera ti è stato d'aiuto, ti invitiamo a iscriverti al canale Viva il Papa e il Rinnovamento. A lasciare un mi piace e a condividere il video per diffondere questa devozione mariana. Che Dio ci benedica e ci protegga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci al quinto giorno della novena.